Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabris e in questo video vi voglio dare una piccola astuzia per poter migliorare un pochettino la veste grafica di RaceRoom. Come sapete ragazzi RaceRoom gira sotto le DX9 che sono molto molto vetuste rispetto a quello che i simulatori attuali e tutti i giochi in generale che escono in DX12 ragazzi. Quindi diciamo che sono un po' indietro, meriterebbe veramente una rimasterizzata a livello grafico questo simulatore. Allora da giugno dell'anno scorso i programmatori hanno messo a disposizione degli shader da poter cambiare diciamo per migliorare un attimino la veste grafica o perlomeno applicare questa sorta di filtro che migliora forse un attimino il gioco. Ve lo dico subito non fa miracoli ma assolutamente però era giusto segnalarvelo perché credo che sia una chicca in più che vi era aggiungere un po' di effetto grafico al gioco che non guasta mai. Allora per farlo è molto semplice bisogna andare sotto la cartella Steam potete passare da Steam e fare direttamente fammi vedere i file locali però io ho tutti i collegamenti qui. Quindi andiamo su Steam App Common, quindi andiamo su Race Room Racing Experience, quindi Game, quindi Shaders, quindi DX9, quindi FX, quindi Moods. E qui vi trovate questi quattro file. La prima cosa in assoluto da fare ragazzi li copiate e fate un backup perché vi saranno sempre utili e perché se succede qualcosa poi mi dite Fabrizio mi hai fatto fare delle cose e non mi parte più Race Room. Quindi abbiamo il nostro backup, lo teniamo buono buono da parte e ci troviamo questi quattro file. Default, Realistic, Standard Day, Xproc con estensione Moods. Queste non sono nient'altro che le Shaders disponibili per il gioco. Default è quello che carica, è il file che carica il gioco quando avviate Race Room. Quindi è quello che va a cercare, gli altri non li caga di striscio. Quindi per attivare Realistic non dovrò fare altro che rinominare il Realistic in Default ed eliminare o rinominare con un altro nome il Default per poterlo attivare. Tutto qua. Se voglio lo Standard Day uguale, rinomino Standard Day Default e cambio il nome al Default prima perché sennò mi dice di sovrascriverlo. D'accordo? E Xproc è la stessa cosa ragazzi. Tutto qua. Bisogna solo rinominare il file .mood che vi interessa come Default perché così il gioco vi caricherà il file di Default. Stop, nient'altro. Se vi siete persi o rinominato male eccetera, tornate, prendete i vostri file di backup, fate copia e lo incollate qua. E così tornate al punto di prima. Quindi riepiloghiamo, andate in questa cartella qua, quindi che è Moods, SottoFX, Dixnope, Shader, Game, Race Room, Experience, Common, Steam App, Steam. Qui dentro ci sono questi quattro file. Il gioco legge il Default.mood e quindi per attivare che devo fare? Devo, se voglio ad esempio, il Realistic. Io guardate lo faccio così, lo facciamo insieme. Io questo il Default lo cancello. Vado su Realistic, faccio rinomina. E così, se avvio Race Room, mi attiva il Realistic. Ora, per tornare indietro, molto semplice. Copia, incolla. Senza fare rinomino, questo è quello che prendi. Copia e incolla ed è fatto. E quindi in questo momento è in Default. Ora, per farvi apprezzare la differenza dei vari Shaders che il gioco vi propone, per evitare di fare voi le prove, eccetera, a seguito di questo video qua vi farò vedere quali sono le differenze dopo aver applicato appunto questi Shader, filtri, chiamateli come volete. D'accordo? Quindi questo non è nient'altro che un po' quello che succede con i programmi come Reshade che applicano dei filtri, ma anche GeForce Experience di Nvidia lo fa e migliorano un po' la qualità grafica, a volte con dei risultati sorprendenti soprattutto ad esempio con Assetto Corsa 1 che veramente si presta molto bene a questa tipologia di filtri combinando anche altre applicazioni esterne che veramente rendono il gioco realistico e soprattutto a passo con i tempi a livello grafico perché oggi, lo sappiamo, l'occhio vuole la sua parte. Quindi, nella speranza che questa piccola chicca, che vi ripeto, non fa assolutamente miracoli però è una funzione all'idea in più, perché non sfruttarla? Nella speranza che questa piccola chicca vi sia piaciuta vi invito a lasciare un pollice in su su questo video non esitate a lasciare un commento iscrivetevi al canale, tanto è gratuito e noi ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto, ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.